A due mesi dal primo incontro avvenuto grazie ad alcuni amici in comune la storia d'amore tra Elodie e Andrea Iannone spicca il volo. Nelle ultime settimane i due si sono mostrati inseparabili. Anche sui social network. Si sono concessi una fuga romantica a Madrid. Dove hanno trascorso momenti ricchi di passione e relax. E ora sarebbero arrivate le prime presentazioni. Come riporta l'esperta di gossip Dejanira Marzano. Con tanto di foto prova su Instagram. Elodie e Iannone sono stati avvistati in un bar di Vasto. Città natale dello sportivo dove vive ancora tutta la sua famiglia. Andrea è molto legato ai genitori e al fratello e pare abbia deciso di presentare ai parenti la nuova. Un incontro al quale la di Patrizzi non si è di certo sottratta. Anzi. La 32enne ha messo ben volentieri da parte i suoi impegni di lavoro per andare a conoscere la famiglia di Andrea Iannone. Una love story nata dunque per gioco. Un flirt estivo che sembrava passeggero. E che invece si sta dimostrando più importante che mai. Al momento nessuna dichiarazione ufficiale è arrivata da parte dei diretti interessati. Silenzio stampa da parte di Andrea Iannone. Che lo scorso anno è stato protagonista ballando con le stelle. Mentre Elodie si è limitata a dire di trovarsi molto bene in compagnia del 33enne. Avasto. In Abruzzo. Andrea Iannone era solito recarsi con Belen Rodriguez. I due hanno fatto coppia fissa per circa tre anni. Il pilota era addirittura pronto ad allargare la famiglia con la subretta argentina ma il destino ha scelto diversamente. Belen aveva stretto un buon legame con la famiglia Iannone e si era innamorato dei posti in cui è nato e cresciuto Andrea. Tanto da organizzare in zona diversi shooting fotografici per i suoi brand di moda. Nessun avvistamento da queste parti. Invece. Di Giulia De Lellis. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Oggi influencer affermata. E Andrea Iannone sono stati insieme solo una manciata di mesi. Giusto il tempo di calcare il Red Carpe del Festival del Cinema di Venezia e nulla più. I due non avrebbero mantenuto alcun tipo di rapporto a differenza di Belen e Iannone che sono rimasti amici.